Ogni giorno ognuno di noi scatta decine se non centinaia di fotografie, molte di queste sono innocue, semplici, dipingono magari un breve momento di quotidianità, un volto sorridente o un luogo interessante. Queste fotografie ci permettono di dare un veloce sguardo ad un momento nel passato che si è come congelato e rimarrà per sempre così, fermo nel tempo e osservabile da chiunque se viene condiviso. Alcuni di questi scatti però racchiudono molto di più, racchiudono una storia, dietro dei semplici fermo immagine della realtà può nascondersi qualcosa di davvero agghiacciante e oggi voglio raccontarvi le storie di quattro fotografie che magari a prima vista potrebbero sembrare normali o anche strane e incomprensibili ma che in realtà celano una storia terrificante. È il 27 dicembre 2015, sono da poco passate le 18 e una donna di nome Sarah Robinson si sta preparando per andare a cena. Sarah è una giovane ragazza che sta trascorrendo una bellissima vacanza su una nave da crociera in compagnia del suo fidanzato e dei suoi genitori. Il viaggio sulla nave da crociera è stato proprio un regalo da parte dei suoi genitori, quelli di Sarah, per cui i quattro membri avevano passato le ultime settimane a godersi il mare, a gustarsi i grandi buffet della nave, gli spettacoli dal vivo e in generale tutto ciò che la crociera aveva da offrire. Il viaggio tuttavia era quasi giunto al termine, infatti quella era l'ultima notte per Sarah e la sua famiglia, perché il giorno dopo la nave sarebbe approdata nel porto della Florida e sarebbero tornati tutti a casa sulla terraferma. In quel momento però Sarah pensa solo a godersi l'ultima serata in compagnia del suo ragazzo e dei suoi genitori. Finisce gli ultimi ritocchi ai capelli e al trucco e insieme al suo ragazzo esce dalla cabina per incontrarsi con gli altri nel corridoio della nave. Tutti insieme si avviano verso l'ascensore e arrivano al decimo piano, dove si trova il ristorante. Non appena arrivano lì, fanno per dirigersi verso il locale e per farlo devono passare attraverso un corridoio in cui ci sono i vari ascensori che portano agli altri piani della nave. Mentre camminano, ad un certo punto, Sarah si ferma di colpo. La ragazza comincia a sentire qualcosa picchiettare sulla nave, come se avesse iniziato a piovere fortissimo e le gocce stessero sbattendo violentemente contro la nave. Questo risulta subito strano alla ragazza, perché il cielo era stato limpido tutto il giorno, non c'erano state nuvole minacciose e in generale il meteo non prevedeva temporali. La ragazza rivolge quindi uno sguardo molto interrogativo ai suoi genitori e al suo ragazzo, consapevole del fatto che anche loro avevano sentito qualcosa picchiettare sul bordo della nave. Poi, ad un tratto, lo strano rumore viene completamente sovrastato da un urlo, ma per capire ciò che è successo dobbiamo tornare indietro di circa 10 minuti. Tra i tantissimi passeggeri della nave c'era anche un uomo di nome José Sandoval Opatz, un operaio elettricista di 66 anni che si trovava lì per svolgere l'ordinaria manutenzione di routine degli ascensori. Tuttavia, quel giorno, durante la solita e rapida manutenzione dell'ascensore, succede qualcosa di diverso. Il tipo di operazione che doveva svolgere richiede in genere solo una decina di secondi. L'elettricista in questione sarebbe dovuto salire sul tetto dell'ascensore solo per fare alcuni controlli tecnici e poi ripetere il processo con tutti gli ascensori della struttura. Per farlo, le misure di sicurezza prevedono e impongono di bloccare completamente l'ascensore in questione, in modo da permettere agli operai di lavorare in totale sicurezza. Nonostante la legge preveda queste misure, la crociera è un luogo turistico talmente affollato, 24 ore su 24, che sarebbe troppo impegnativo e disturbante bloccare ogni volta un ascensore. E siccome si tratta di un'operazione molto breve, gli operai sulla nave decidono di omettere questa piccola, tra virgolette, manovra e lasciare comunque attivi tutti gli ascensori. José e gli altri elettricisti sulla nave compiono questo lavoro ogni giorno e sanno benissimo cosa devono fare, quindi per loro è un gioco da ragazzi. Quel giorno José si trova proprio sulla cabina dell'ascensore, intendo proprio sopra, all'esterno della cabina, e sta eseguendo questo regolare lavoro di manutenzione, ma all'improvviso qualcosa sotto i suoi piedi comincia a muoversi. L'uomo non è più stabile e sente gli ingranaggi intorno a lui mettersi in moto. In pochi attimi José realizza il peggio. Un ospite della nave è entrato nell'ascensore e ha digitato un piano, e quel piano era proprio il decimo, nonché ultimo. Quello in cui in quel momento si trovavano Sara e la sua famiglia. Molto lentamente il mezzo inizia la sua salita, e l'operaio capisce in fretta di non avere una via di fuga. In quell'attimo di panico e di terrore, José decide di infilarsi nell'unico posto che gli sembrava possibile raggiungere per evitare di venire schiacciato contro il soffitto una volta arrivato in cima, ovvero tra il muro e l'ascensore. Ma avvicinandosi e mettendo un arto tra il muro e la cabina, l'ascensore praticamente lo risucchia nel giro di qualche secondo e sfracella completamente tutto il suo corpo, trascinandolo fino all'ultimo piano. Non appena l'ascensore raggiunge la sua destinazione, l'ospite esce, accompagnato da fiumi e schizzi di sangue del corpo completamente maciullato di José. Quel bizzarro ticchettio che a Sara sembrava pioggia non era altro che il sangue di José che cadeva verso il basso e lungo le pareti della nave. I medici sono arrivati subito sulla scena, ma ovviamente per il povero uomo non c'era più nulla da fare. Quelli che hanno assistito alla tragedia hanno detto che sembrava di essere dentro Shining, durante quella scena della cascata di sangue davanti all'ascensore. Miche Solomon è una giovane ragazza di 17 anni che vive a Città del Capo. Anche in questo caso siamo nel 2015, più precisamente all'inizio dell'anno, e Miche sta finendo di preparare lo zaino per il ritorno a scuola. Dopo aver salutato e abbracciato i suoi genitori, esce di casa. Quando è a scuola saluta tutti i compagni e chiede come siano andate le vacanze. È contenta di rivedere i suoi amici e ricominciare le lezioni. A metà mattinata, un suo amico le dice che c'è una nuova ragazza a scuola, di qualche anno in meno di loro, che però le somiglia moltissimo. Miche non dà molto peso all'affermazione di questo amico, tuttavia la cosa inizia a diventare un po' strana quando nelle ore successive almeno un'altra decina di compagni le riferiscono la stessa cosa. Il giorno seguente Miche decide di capire chi fosse questa ragazza così tanto simile a lei, così chiede a uno di loro di fargliela vedere. E poi, non appena la vede, rimane subito molto colpita dall'incredibile somiglianza. Così decide di presentarsi. La ragazza in questione si chiama Cassidy Nurse e ha tre anni in meno di Miche. Nonostante la differenza d'età, tra le due nasce subito una connessione fortissima, anche grazie al fatto che si somigliavano così tanto, e stringono da subito un bellissimo rapporto. Durante il mese successivo le due diventano così legate e in sintonia, che a loro pare è come se la loro amicizia fosse in realtà una di quelle che durano da anni. In pochissimo tempo formano un rapporto talmente forte da somigliare di più ad una sorellanza che ad una semplice amicizia. Si iscrivono ogni giorno fino alla sera, quando hanno un po' di tempo libero decidono di trascorrerlo insieme, sia a scuola che fuori. E arriviamo così al 25 febbraio del 2015. È un giorno come un altro, Miche sta finendo velocemente i compiti tra un boccone e l'altro della colazione, quando sua mamma arriva in cucina e le intima di sbrigarsi o avrebbe fatto tardi a scuola. Miche recupera goffamente gli ultimi libri sul tavolo, dà un bacio a sua mamma e si fionda fuori di casa. Lì sulla strada c'è sua zia in macchina, che la sta aspettando e che è pronta a portarla a scuola come ogni mattina. La ragazza sale contenta sulla macchina, saluta sua zia e poi le due partono. Quel giorno tuttavia, la zia di Miche non sembra molto tranquilla. Tiene strette le mani sul volante e quasi ossessivamente guarda spesso nello specchietto retrovisore con uno sguardo preoccupato. La ragazza si guarda indietro cercando di capire con lo sguardo che cosa stesse preoccupando così tanto sua zia, ma non vedendo nulla di insolito le chiede quale fosse il problema. Al che, lei risponde con tono piuttosto ansioso, che era da un paio di giorni che una macchina bianca la stava seguendo e lo faceva in particolare la mattina, quando portava Miche a scuola. La ragazza si gira di nuovo, cerca con lo sguardo una macchina bianca, ma la strada era piena di altre auto, per cui era difficile distinguere quale fosse. All'arrivo all'istituto, Miche si fionda nel corridoio verso la sua classe e, tra la folla di studenti, nota il volto di Cassidy. La ragazza fa un sorriso e la saluta con la mano, ma Cassidy, in risposta, fa uno sguardo preoccupato e si nasconde tra gli altri compagni per poi scomparire dentro una classe. Miche rimane sconcertata per qualche secondo, anche perché era da un paio di giorni che l'amica si comportava in modo strano e sembrava evitarla in qualsiasi occasione. Con un po' di delusione, Miche entra in aula, sistema le sue cose sul banco e si prepara ad ascoltare l'insegnante. La lezione però non fa in tempo a cominciare che il preside della scuola fa il suo ingresso in classe sotto lo sguardo confuso degli studenti. L'uomo indica Miche e le chiede di seguirlo in presidenza perché ha qualcosa di molto importante da comunicarle. La ragazza guarda i compagni, confusa, che intanto le stavano volgendo uno sguardo interrogativo e qualche sorriso, ma la ragazza sa di non essersi messa nei guai in nessun modo e nella sua testa inizia a farsi decine di domande su quale potesse essere la ragione di quella convocazione. All'arrivo nell'ufficio del preside, l'uomo la invita ad accomodarsi quando Miche nota che nella stanza c'erano già due donne che non conosceva. Subito la ragazza si blocca e inizia a spaventarsi, chiede cosa stia succedendo, si agita. Così le due donne si guardano e senza nemmeno presentarsi dicono a Miche che la ragione per la quale era stata convocata era una fotografia scattata da lei, nella quale era insieme alla sua amica Cassidy. La ragazza ovviamente è confusa e comincia a fare decine di domande continuando a ripetere che non riusciva proprio a capire il motivo di quella convocazione e soprattutto di quale foto stessero parlando. Le due donne allora decidono di rompere il silenzio e raccontano a Miche tutta la verità, ma soprattutto le raccontano qualcosa che da quel giorno avrebbe cambiato completamente la sua vita. Questa storia non coinvolge solo Miche, ma anche la sua amica Cassidy e la misteriosa foto di cui parlavano le donne. Dopo aver sentito tutta la storia, Miche si lascia andare sulla sedia con una mano sulla bocca e uno sguardo completamente incredulo. Nella sua testa risuonano così tante domande, ma lo shock è talmente forte da non permetterle di parlare. Solo dopo qualche minuto, con un filo di voce, la ragazza chiede se fosse possibile contattare i suoi genitori e le due donne si guardano e le rispondono che purtroppo no, non era possibile, perché degli agenti di polizia si trovavano già a casa loro e ci stavano parlando. Per questo motivo Miche quel giorno non sarebbe potuta tornare a casa e sarebbe dovuta andare via con le due donne, che si riveleranno essere delle assistenti sociali. Prima di portare la ragazza nella struttura in cui avrebbe dovuto passare la notte, però le donne le comunicano che avrebbe dovuto fare una sosta in una clinica medica di quel posto. Ma a quel punto Miche era così incredula e sconvolta da ciò che era successo che decide di non fare altre domande. Quella notte la ragazza non chiude occhio e nella sua testa continuano a rimbombare così tante domande da non lasciarle prendere sonno. Pensa a quella foto scattata insieme a Cassidy che ha dato inizio a tutto questo e si chiede il perché. Perché tutto questo era accaduto a lei? Il giorno seguente le due donne vanno a recuperare Miche e la portano nell'ufficio in cui si trovavano altri assistenti sociali e due agenti di polizia. Uno degli assistenti sociali a quel punto riferisce che la clinica in cui erano andate il giorno prima aveva mandato i risultati delle analisi. Infatti la sosta alla clinica il giorno prima era stata fatta solo per sottoporre Miche ad un test del DNA. Quello che viene fuori è che Miche Solomon non è in realtà Miche Solomon. Il suo vero nome è Zephanie Nurse. Esattamente 17 anni prima Zephanie Nurse era stata rapita dall'ospedale proprio due giorni dopo la sua nascita e nonostante le ricerche siano durate quasi 10 anni la bambina purtroppo non era mai stata ritrovata. Così come del suo rapitore si erano perse completamente le tracce. Quel test del DNA aveva dimostrato proprio che i genitori di Miche che l'avevano accudita e cresciuta con amore per 17 lunghi anni non erano in realtà i suoi veri genitori. Sua mamma di nome Levana era in realtà sempre stata la sua rapitrice. Il 28 aprile del 1997 una donna aveva dato alla luce Zephanie in un ospedale di città del capo e lei e suo marito non vedevano l'ora di portarla a casa. Per tre giorni la donna aveva tenuto la sua bambina in braccio e l'aveva allattata ma qualcosa improvvisamente era andato storto. Il 30 aprile una donna vestita da infermiera ha portato Zephanie fuori dalla stanza. La mamma un po' assonnata e stordita dai farmaci antidolorifici aveva pensato subito che la donna facesse parte del reparto di maternità. Quando poco dopo però è arrivato un medico a svegliarle e chiederle dove fosse la bimba la donna è rimasta subito inorridita. Non era stata mandata nessuna infermiera a prendere sua figlia. Era un'intrusa vestita da infermiera che senza dire niente ha rubato letteralmente una neonata. Dopo la scoperta del DNA Levana viene subito arrestata insieme a suo marito con l'accusa di rapimento. Come se questa notizia non fosse già assurda Michele rimane ancora più sbalordita nell'apprendere chi erano i suoi veri genitori. Gli assistenti sociali decidono di portare la ragazza alla stazione di polizia dove avrebbe potuto incontrare i suoi genitori biologici che stavano aspettando di rivederla. A suo arrivo la ragazza non riesce a credere ai suoi occhi. Quelle persone non erano affatto degli estranei ma i genitori della sua migliore amica Cassidy Nurse ovvero Morne Nurse e Celeste Nurse. Quando le due ragazze si erano incontrate all'inizio delle lezioni e hanno sentito subito un'incredibile connessione era proprio perché erano letteralmente sorelle. La famosa foto di cui si parlava non era altro che un selfie scattato dalle due che Cassidy avrebbe poi mostrato ai suoi genitori. Celeste vedendola era rimasta subito sconvolta dallo scatto e aveva chiesto a Cassidy il nome della sua amica. Poi ha deciso di fare qualcosa che le avrebbe tolto quasi ogni dubbio ovvero far chiedere a Zefani se fosse nata il 28 aprile del 1997. Dopo aver portato la foto alla polizia gli agenti riprendono subito in mano il caso e decidono di ricominciare a indagare e queste indagini consistevano proprio nel seguire Michè in particolare la mattina quando sua zia la portava a scuola. Questo è il motivo per cui la donna diceva di essere seguita e era anche il motivo per cui Cassidy in quei giorni si era comportata in maniera strana con Zefani. Lavona verrà condannata a dieci anni di carcere ma non c'è mai stata nessuna prova che il marito fosse al corrente di tutto. Infatti 17 anni prima Lavona era realmente in gravidanza ma si crede che abbia avuto un aborto spontaneo senza mai condividerlo con il partner e non riuscendo a superare il dolore avrebbe poi rapito Zefani dall'ospedale. Michè deciderà comunque di tenere quel nome, il nome che le aveva dato la sua finta madre, decidendo anche di non tagliare i ponti con i suoi rapitori perché in fondo l'avevano sempre cresciuta e amata come una figlia. Ci troviamo nell'India meridionale, è il 24 settembre del 2017 e una classe di circa 25 studenti universitari è in gita scolastica. Questa parte del paese è un luogo molto famoso per i suoi bellissimi sentieri tortuosi, la meravigliosa natura e gli imponenti massi ai lati delle montagne ma la cosa più bella che si possa vedere in questa zona è il tempio di Gundan Haneya, un antico tempio che è diventato una meta turistica molto visitata negli ultimi anni. Uno dei ragazzi del gruppo di nome Sanjay sale su un masso per riuscire a scorgere il tempio in lontananza e riferisce i suoi compagni che sono molto vicini alla destinazione. Dopo qualche secondo il ragazzo si illuminano gli occhi ed esclama che proprio accanto al tempio c'è una fonte d'acqua artificiale in cui lui e i suoi amici avrebbero potuto rinfrescarsi. Così scende velocemente dal masso per correre incontro alla fonte d'acqua, urla ai suoi amici di seguirlo e nell'euforia generale il gruppo di ragazzi si mette a correre verso la fonte d'acqua urlando e togliendosi via i vestiti. Ben presto i ragazzi si ritrovano nell'acqua a nuotare e scherzare, insomma divertendosi dopo una lunga giornata di camminata. All'improvviso però Sanjay nota che un compagno del gruppetto era rimasto fuori dall'acqua. Era fermo immobile ai bordi della fonte e stava leggendo un cartello. Questo ragazzo si chiama Vishwas ed è il più timido e riservato del gruppo. Così Sanjay gli urla di entrare anche lui in acqua per stare tutti insieme. Vishwas sembra avere ancora un po' di esitazione ma poi decide di lasciarsi andare anche lui al divertimento. Dopo qualche secondo finalmente l'intera classe è riunita in acqua e continua a divertirsi ancora una decina di minuti. Poi Sanjay riunisce tutti i suoi amici e scatta un selfie come ricordo di questa bellissima giornata. Poco dopo uno dei professori chiama gli studenti e dice loro di uscire dall'acqua per continuare la visita al tempio. Così i ragazzi escono e proseguono con la gita. Nell'ora successiva il gruppo è sparpagliato intorno al tempio a visitare le varie parti della struttura quando Sanjay si siede su un muretto e si mette a scorrere tutte le foto scattate quel giorno fino ad arrivare all'ultimo selfie scattato insieme agli altri nell'acqua. Sorride allo schermo mentre guarda la fotografia. Tutti sembrano così felici ma mentre il ragazzo guarda la foto si rende conto che c'era qualcosa di strano e più la guardava più il suo sorriso svaniva. Il ragazzo si alza in piedi di scatto e decide di andare a controllare. Si guarda rapidamente intorno per cercare tutti i suoi compagni anzi cerca qualcuno in particolare ma non sembra trovarlo. Allora inizia a incamminarsi in giro per il tempio. Osserva meticolosamente ogni volto che li passa accanto e dopo essersi aggirato in ogni stanza e non aver trovato quello che cercava Sanjay si fa prendere dal panico. Corre verso il suo professore e gli mostra la fotografia in questione. Il ragazzo gli fa notare la cosa strana di quell'immagine e subito l'uomo si accorge di quel dettaglio e rimane perplesso. Chiede rapidamente a Sanjay quanto tempo fosse passato dallo scatto e cosa avesse fatto dopo. Sanjay lì risponde che era passata circa un'ora e che aveva perlustrato tutto il tempio ma non aveva trovato quello che cercava. Il professore tira immediatamente fuori il telefono e chiama la polizia. Gli agenti arrivano sul posto poco tempo dopo e impongono ai ragazzi e ai professori di restare vicino al tempio tutti insieme e di non scendere in piscina. Da lì non possono avere la visuale sulla fonte d'acqua e non capiscono esattamente cosa stia succedendo ma poco tempo dopo il silenzio della montagna viene interrotto dall'urlo di uno degli agenti che dice di aver trovato qualcosa. È in quel momento che Sanjay capisce che quello che aveva visto nella foto doveva essere vero. Il motivo per cui il compagno di Sanjay, Vishwas, non era entrato in acqua era perché non aveva mai imparato a nuotare ma non aveva il coraggio di dirlo ai suoi compagni. Quindi urlandogli di entrare in acqua Sanjay ha creato involontariamente un po' di imbarazzo in Vishwas che non volendo attirare l'attenzione su di lui ha deciso di entrare con gli altri. Sanjay ha poi chiesto al gruppo di mettersi nell'inquadratura per scattare la fotografia ed è effettivamente riuscito a riprendere tutti nello scatto. Tutti tranne uno di loro, Vishwas. Di cui si vede solo la parte superiore della testa perché in quel momento stava già annegando. Un'ora dopo quando Sanjay apre la fotografia e vede la parte superiore della testa di Vishwas allora realizza tutto e dopo aver cercato per l'intera struttura e non averlo trovato. Ha deciso di dirlo a suo professore. La sera del 25 marzo 2017 un contadino di 25 anni di nome Akbar Salubiro stava finendo di raccogliere tutti i frutti in una delle palme vicino al suo piccolo villaggio dell'Indonesia. Per farlo Akbar utilizzava un lungo bastone ricurvo, recuperava il frutto dall'albero e lo lasciava cadere a terra per poi raccoglierlo, metterlo nel suo carro e portarlo a casa. Quella notte Akbar stava prolungando le ore di lavoro perché sua moglie e i suoi figli non erano in casa quindi non c'era motivo per lui di tornare subito. Quando il sole ha iniziato a tramontare però l'uomo ha capito di dover iniziare a rincasare perché la foresta di notte può diventare un luogo ostile e pericoloso. Akbar ha raccolto gli ultimi frutti caduti a terra e ha iniziato a percorrere il sentiero verso casa. Durante quella notte però uno dei vicini di Akbar si è svegliato improvvisamente dopo aver sentito il suono di qualcosa tra gli alberi. Non molto lontano dal luogo in cui Akbar stava raccogliendo i frutti dalle palme. Non molto lontano dal luogo in cui Akbar stava raccogliendo i frutti dalle palme. Così il vicino si è alzato chiedendosi da dove potesse provenire quello strano suono. Sembrava quasi un urlo soffocato. L'uomo ha teso l'orecchio verso l'esterno per cercare di sentire di nuovo quello strano rumore ma ormai l'unica cosa che riusciva a percepire erano i suoni normali provenienti dalla foresta notturna. Il vicino ha quindi pensato che molto probabilmente si trattava di un gatto selvatico o di una scimmia e si è rimesso a dormire. Il giorno seguente uno dei vicini di Akbar esce di casa per iniziare la camminata verso la foresta e raccogliere la frutta. A quella stessa ora di solito anche Akbar usciva di casa per cominciare a lavorare ma quando dopo qualche minuto il vicino non sembra vedere l'uomo uscire di casa inizia a pensare che sia molto strano e decide così di andare a bussare alla sua porta. Purtroppo però nessuno va ad aprirgli e dall'interno sembra provenire solo un silenzio tombale. L'uomo si avvicina ad una delle finestre e sbircia all'interno ma è tutto completamente buio. A quel punto anche altri vicini escono di casa per cominciare il lavoro della giornata ma quando Akbar ancora non compare iniziano tutti a pensare che sia successo qualcosa di strano. Così gli uomini formano una squadra e decidono di andare a cercare il loro amico. Si muniscono tutti di torce frontali, macete e coltelli e insieme si allontanano dal villaggio per addentrarsi nella foresta e cercare Akbar. Lungo il sentiero tutti gli uomini urlano in continuazione il suo nome mentre si fanno strada con l'aiuto dei macete ma le ore passano e di lui ancora nessuna traccia. Quando arriva la fine del pomeriggio il sole inizia a tramontare, la foresta si fa sempre più fitta e oscura e gli animali della notte iniziano a uscire allo scoperto. Ad un certo punto gli uomini notano che ai piedi di una palma ci sono due frutti rossi maturi e capiscono che erano stati raccolti di recente quindi Akbar non doveva essere lontano. Il gruppo inizia a sparpagliarsi in tutta l'area chiamando Akbar ancora più forte e poi all'improvviso uno degli uomini si addentra in un tratto particolarmente fitto tra gli alberi, guarda in basso e vede qualcosa di sconvolgente. Comincia ad urlare per richiamare l'attenzione degli altri ed è lì che tutti capiscono cos'era davvero successo. La notte precedente Akbar aveva deciso che non era sicuro rimanere fuori con l'arrivo del buio, quindi aveva cominciato a camminare verso casa. Ad ogni passo però aveva questa terribile sensazione di sentirsi osservato ma soprattutto seguito. Sembrava che qualcosa si stesse muovendo tra gli alberi e lo stesse scrutando. A un certo punto questa cosa aveva iniziato a strisciare sempre più vicino a lui. Si trattava di un pitone di quasi sette metri che in una frazione di secondo lo ha attaccato afferrandogli la parte posteriore del collo con i suoi denti. È in quel momento che l'uomo ha emesso un grido soffocato, ovvero lo stesso rumore che aveva svegliato il vicino la notte prima. Il pitone si era poi avvolto attorno ad Akbar e gli aveva schiacciato tutte le ossa per poi rilassarsi e scivolare via da lui. Akbar era caduto a terra praticamente senza vita e a quel punto l'animale si era posizionato davanti a lui e aveva iniziato a mangiarlo inghiottendolo tutto intero. Quello che uno degli uomini della squadra di ricerca aveva trovato non era altro che il pitone che aveva chiaramente una persona al suo interno e quella persona dopo aver ucciso e aperto il serpente si è scoperto che era proprio Akbar.